Partita anche la gara ragazzi, tre giri anche per loro Della libertà sbaltelza E un atleta in maglia nera che purtroppo non so che possa essere Attenzione, Sarpenchella ha avuto una caduta purtroppo proprio nel punto più complicato del percorso Speriamo che non abbia avuto danni Vai John Un'altra atleta della libertà sbaltelza Vai Alessio, vai! Per arrivare alla conclusione Ancora tanto tempo prima della conclusione della gara L'atleta della Val d'Or c'è davanti a San Pettine Ma le distanze sono irrisorie C'è solo dieci metri di vantaggio Poi un altro atleta della libertà sbaltelza è uno di San Gimignano Vai Alessio! Vai Alessio! Vai Alessio! Vai Alessio! Vai Alessio! Vai Alessio! Viva 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 Alessio!